ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video speciale dedicato al tunnel degli iscritti da quando ho pubblicato il primo video del tunnel il 21 dicembre 2015 vi siete iscritti al modulo in moltissimi mi fa davvero molto piacere perché a quanto pare questo sistema sta funzionando bene e per l'appunto attualmente siete circa 300 che hanno compilato il modulo sapete bene che ad ogni episodio della serie survival saluto 7 persone tuttavia considerato che siete aumentati tantissimo ci tenevo a salutarvi in questo video speciale che farò un pochino più spesso in modo tale da accontentare tutti faccio un'altra piccola premessa mi raccomando ragazzi prima di compilare il modulo leggete bene quali sono gli oggetti non accettati perché come vi ho sempre detto tutto quello che viene aggiunto al tunnel non lo prendo dalla creativa e quindi oltre a costruire il tunnel regolarmente devo anche recuperare tutti i materiali a fine video appunto elencherò coloro che hanno sbagliato a compilare il modulo in modo tale che abbiano la possibilità di correggersi sotto a questo video e poi io successivamente modificherò gli oggetti non accettati quest'oggi elencherò e saluterò le prime 100 persone che hanno compilato il modulo saranno salutati in ordine alfabetico in modo tale che non vi annoierete a seguire tutto il video Alessandro Drift Alex Alex Doppio Figo Alex Raptor 22 Ale Zaff Andrea Tanda 02 Andrea Di Stefano Andrea Frau Andrea 094 Antonio Mosca Baschiex Carmi 31 Creep Deca Daniele Calvi Davide MD Denis D99 Devil of Persia Diego 9000 Elia Andri Oxa Andy Loquendo 79 Ettore Extra Lucario Federica Puccio Feller Alessio Philips 01 Francesco 2005 Frenzy Gamer 02 Gag H7 Gilo Ippo Giovanni Di Palermo Giovannino The Best Giuseppe 707 Golden Player Itex Imaton Il Tizio Che Parla Di Robe Invictus 95 Kaizen Killer Boss Chris Tartary Chris 2003 Ledo Lol Matteo Meap 1379 Miriam Mister Denno Nico Nicolò Rumualdi Nico 09 Omar 880 Pasqualino Maraia Piccolo Yakuma Pierangelo Pancera Poke 33 Epic Raffaele Raffaele Red Gamer Renz Red Diaz Reversed Visual 01 Rexy 000 Riccardo Rocky Roxas Sandman Shadow Striker 34 Simeon 747 Simo Fer Simo 04 Stay Inter 03 Stefano Patagonale Terman Tami Guastafierro Deaths Ombra The Hunter 536 The Creator Ti Sto Trollando Tyrex 99 Gaming Valkylor Valkylor Valse Via de Testa Videogames IOZ Vincenzo The Beast Waka WT Fabio XDesde 17 XenoX XGino Pilotino XX Niki88XX XX The Master XX XX Mark LNOXX XANAZ 20802 Zelda Lolloza Zeta Lucas C'è un gruppetto di persone che ci tengo a salutare particolarmente anche perché mi ci sento ogni giorno e condividiamo tanti momenti divertenti all'interno del server Orsetti Scavatori e sono Steto 951 Magic Ginger Nazibo Doc Ena E per concludere abbiamo Cristi 1012 Prima di chiudere il video c'è un altro elenco di persone che vorrei mostrarvi che hanno sbagliato a compilare il modulo In questo momento state vedendo i nomi di queste persone con il relativo blocco o oggetto che non possono essere accettati E se foste tra questi vi chiedo gentilmente di scrivermi un commento sotto al video dicendomi quale altro blocco oppure oggetto vorreste Nel caso queste persone elencate non mi risponderanno sotto a questo video entro una settimana Metterò loro un oggetto a mio piacimento nella cornice Ricordo nuovamente che non prendo oggetti dalla creativa ed infatti nel modulo troverete la lista delle cose che non accetto E potete vedere anche lo schemino in questo momento Ovviamente non accetto neanche gli oggetti appartenenti alla versione 1.9 E quindi ragazzi questo era l'elenco delle prime 100 persone che hanno compilato il modulo Spero che siate soddisfatti di essere entrati nel tunnel dei iscritti Come sapete ci tengo molto a dare valore ad ognuno di voi E quindi mi sembra giusto salutarvi e nominarvi E quindi sapete che ci metto tanto anche a preparare questo genere di video perché devo recuperare tutti i materiali, costruire il tunnel Ma è una cosa che ci tengo veramente tanto Anche perché è proprio grazie a queste cose che trovo la giusta motivazione e lo stimolo per continuare a fare video Quindi ragazzi grazie E quindi niente ragazzi questo era per dirvi che ci saranno altri video come questo E dovete avere solo un pochettino di pazienza E quindi ringrazio coloro che rimarranno ancora sintonizzati in questo canale Detto questo se vi va lasciate un mi piace e un commento Un saluto da GiocoSporco e noi ci rivediamo ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti